Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e questo è un nuovo contest di FIFA 17 dove andremo a regalare i soliti 30.000 crediti che sto regalando ogni settimana fino a quando li avrò, li regalerò ragazzi, poi quando non ce l'ho più attaccate non regalo più niente a nessuno comunque dicevo, allora per partecipare a questo contest rinnovo sempre insomma i requisiti ragazzi, i requisiti sono avere il canale pubblico in maniera che io possa controllare le vostre iscrizioni essere iscritti sul canale, lasciare un bel like condividete a più non posso questo video ragazzi, più che potete e questi sono i requisiti io poi tramite il programma online andrò a verificare se siete iscritti se avete le iscrizioni pubbliche, se avete condiviso il video lasciando un like insomma questo video e tutto il resto quindi andrò a estrarre il vincitore ragazzi e a questo punto insomma non mi resta altro da dire lasciate un partecipo, un like mi raccomando ragazzi canale aperto iscrizioni pubbliche buona fortuna a tutti per questi 30.000 crediti ragazzi mi raccomando partecipare e condividere il video con i vostri amici perché fatelo girare insomma più siamo, più cresciamo, meglio è per me, meglio è per voi e niente ragazzi, maggiore soddisfazione mi date comunque quando vedo che ci siete detto questo vi lascio un saluto a tutti e al prossimo video, ciao a tutti ciao a tutti